Carissimi amici della zona pastorale toscana, in occasione della visita pastorale del nostro arcivescovo, il prossimo 22 febbraio alle ore 21, ci sarà una veglia per la pace presso la chiesa di San Ruffillo. Tre i motivi per partecipare. Priare per la pace nel mondo, oggi più che mai minacciata dai tanti conflitti in corso. Speravamo, speravamo in un tempo di pace prolungato non solo in Europa, ma nel resto del mondo. Così non è. Occorre quindi chiedere con insistenza questo dono. Pregare per i nostri vicini, quelli con i quali condividiamo il tempo del lavoro, dello svago, il tempo della famiglia. A volte si creano situazioni di conflitto con i nostri fratelli più vicini, che sembra impossibile poter ricomporre. E per ultimo, ma non il meno importante preghiamo per la pace in noi stessi. Potremmo avere delle fratture interiori, delle paure che ci bloccano, delle storie mai risolte che ci impediscono una vita più gioiosa. Ecco tre ragioni, ma potrebbero essercene altre, per le quali non possiamo mancare a questo momento comunitario che ci viene offerto, per riflettere e pregare. Vi aspettiamo.